Non riesco a capire il motivo per cui ai residenti di Metauriglia venga chiesto di pagare 1,65 euro per la corsa verso Fano, quando le tariffe indicate sul sito web mostrano prezzi diversi. Vorrebbe una spiegazione alla signora Mariangela, che ha inviato una mail all'azienda di trasporto pubblico Adriabus, ma senza ottenere risposte. Io denuncio il fatto che sul sito dell'Adriabus siano messe le tariffe come chilometro, mentre in realtà ci fanno pagare come se fossimo oltre i 6 chilometri, mentre questa fermata è a 4 chilometri e 800 metri dal capolinea. L'ingegnere dell'Adriabus contattato mi ha risposto che Fano è divisa in zone e quindi le tariffe vanno a zone. Ora, informazione corretta, vorrebbe che questo fosse riportato anche sul sito, ma alla mia richiesta di dove si trovino queste fantomatiche zone, non ha risposto nessuno, perché neanche il centralino dell'Adriabus sa la loro esistenza. Quindi io chiedo per gentilezza che venga fatta pagare la tariffa corretta, che è 1,15 euro e non 1,65 come loro pretendono. Grazie. Grazie.